Il mondo odia i cristiani per la stessa ragione per cui ha odiato Gesù, perché lui ha portato la luce di Dio e il mondo preferisce le tenebre per nascondere le sue opere malvagie. Nel giorno in cui la Chiesa ricorda il protomartire Stefano, Papa Francesco ha rivolto il proprio pensiero a quanti ancora oggi subiscono sopprusi e violenze a causa della propria fede, in numero maggiore rispetto ai primi tempi del cristianesimo. Nonostante le difficoltà ha proseguito il pontefice, i discepoli dell'unigenito sono chiamati a vivere secondo la mentalità evangelica, rifiutando la mentalità dei dominatori di questo mondo. Anche oggi la Chiesa, per rendere testimonianza alla luce e alla verità, sperimenta in diversi luoghi dure persecuzioni, fino alla suprema prova del martirio. Quanti i nostri fratelli e sorelle nella fede subiscono sopprussi, violenze e sono odiati a causa di Gesù? Io vi dico una cosa, i martiri di oggi sono il numero maggiore rispetto a quelli dei primi secoli. Quando noi leggiamo la storia dei primi secoli, qui a Roma, leggiamo tanta crudeltà con i cristiani, io vi dico la stessa crudeltà c'è oggi, è il numero maggiore con i cristiani. Oggi vogliamo pensare a loro che soffrono persecuzione, essere vicini a loro con il nostro affetto, la nostra preghiera e anche il nostro pianto.